Aggressione a padre e figlio, fugati, visi dai feriti in ospedale e ordina l'abbattimento dell'orso responsabile, anche se non si sa ancora quale esemplare sia stato. Coronavirus, nessun decesso e un nuovo positivo su 608 tamponi in Trentino. Dopo gli 11 contagiati di ieri, l'Alto Adige torna a registrare il doppio zero. Supermercati chiusi nei giorni festivi, fugati, insiste e chiede la procedura d'urgenza. A rischio la libertà di concorrenza degli imprenditori trentini. Balanga sulla marmolada, un 46enne viene trascinato per 300 metri in un canale durante un'escursione con l'iscida alpinismo e ritrasferito all'ospedale ha riportato solo l'infortunio alla caviglia. Brentonico, violento scontro tra un'auto e un'ape con il motocarro sbalzato a bordo strada e rovesciato, ferito e conducente trasferito in elicottero all'ospedale. 730 online è il servizio offerto da Caffacli per fare la dichiarazione dei redditi. Quest'anno puoi fotografare i tuoi documenti con il cellulare e consegnarli all'esperto fiscale comodamente da casa tua. Non devi compilare nessun modulo, non c'è nessun calcolo da fare, quindi non puoi fare errori. Prova la novità! L'iscrizione costa solo un euro 730 online di Caffacli Incredibili vantaggi in un'unica soluzione www.il730.online